Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Insomnis, un gioco uscito il 7 di gennaio 2022 su Steam al costo di 12,50 euro circa. Il gioco sembra essere molto interessante dato che ha vinto comunque alcuni premi riguardo alle uscite indie e ha delle buone recensioni anche della stampa. Di che cosa si tratta? Si tratta di un horror con degli omaggi ai giochi come Resident Evil, Silent Hill, ovviamente Resident Evil vecchi. Abbiamo ereditato un castello, un maniero da nostro nonno e andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. È una casa ormai abbandonata da anni. Potremmo ritrovare diversi extra tra cui lettere, cartoline, ci sono tutta una serie di collezionabili che possiamo trovare, ma ovviamente il gioco non è tutto qui, cioè non è solo esplorazione e cammina, appunto gli enigmi, insomma i puzzle da risolvere per poter proseguire con una buona dose di jumpscare. Adesso io non so se riusciremo già a vederlo in questo gameplay, ma voglio provarlo insieme a voi. Il gioco si vede è un indie perché se si vuole essere precisi rispetto a un'amnesia ad esempio qui non potete aprire tutte le cose che volete, le ante che volete, ma aprite solo quelle che il gioco vi dice. Però ha tutti quei cliché che hanno i giochi horror, il pendolo che suona, la casa al buio e se avete visto anche gli screen su Steam, insomma sapete che cosa aspettarvi. Allora, sta per suonare il telefono e a breve sapremo che la nostra eredità è pronta. È Elizabeth Finch. Hanno fatto la lettura del testamento e ora dobbiamo passare in ufficio e firmare alcuni documenti e quindi ritirare le chiavi. Beh, abbiamo portato poco tempo fa The Shore. The Shore era un horror senza jumpscare ma con un'ottima, diciamo, passione nel riprodurre un'ambientazione lovecraftiana. Qua non vedo quella passione nel ricreare un'ambientazione specifica. È un classico cliché horror. Ma il gioco comunque è fatto bene, è vecchio stile, quindi da giocare con le cuffie al buio, chi cerca il brivido, e dura sicuramente di più perché siamo verso le 3-4 ore come durata. Quindi non è inferiore all'altro, semplicemente è diverso. L'altro era più povero, come magari cose, varietà di esplorazione, era meno intrigante, non aveva esplorazione appunto The Shore ma insomma aveva però quel surplus di musica e mostri. La prima cosa che dobbiamo fare, perché ovviamente vedete che è una stanza un po' strana questa, è mettere on l'energia elettrica. Infatti vedete che c'è la porta. Prima non c'era, però questo probabilmente è un modo per farci interagire con gli oggetti. Quindi ci ha fatto operare un cassetto e ci ha fatto interagire col quadro elettrico. Entriamo nel castello, questo è un castello vecchio stile, questa stanza ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi non ha alcuna ragione di esistere. E il nostro personaggio commenterà il tempo ha distrutto questa casa. C'è cura comunque nella realizzazione perché si vede proprio la carta da parati con l'infiltrazione di umidità, il soffitto proprio vecchissimo stile, la libreria. Qui in alcuni casi si può interagire anche con i libri, perché possiamo prendere, possiamo leggere i documenti, il classico, la classica musica oro. Leggiamo il testo. Io Roman Caster, attualmente presidente. Vediamo un attimino. Ordino ma non pretendere le spese a minuto e malattie menuzionale. Ok. C'è di una realità tutti i beni posseduti. A mia nipote Joe Casteret. Se mi sopravvive o se non mi sopravvive, secondo la dichiarazione scritta. Ok. Va bene. Questo è il testamento. Ora. Stiamo un pochino esplorando così vi faccio vedere anche come funziona l'interazione con gli oggetti. Come vedete non sono tutti interagibili solo alcuni. E adesso abbiamo trovato, questa è la cosa più inquietante che ho trovato finora. Lo sto giocando ma ho già giochicchiato un pochino prima. 15.000 sterline di bolletta elettrica. Non so quanto abbia consumato il nonno comunque. Questa è una cartolina. Buongiorno nonno, non mi hai mandato i soldi per tornare a casa per Natale, non mi hai mandato neanche il biglietto così ho passato tutto il Natale qui da solo. Grazie al cielo uno dei miei colleghi è rimasto con me. Stai bene, è successo qualcosa? Spero che abbiate delle buone vacanze. Ok, è nostra questa cartolina? Probabilmente questa lettera probabilmente sì, quasi può aprire la finestra ma ovviamente lo sappiamo tutti che l'oro all'inizio parte piano. Questa è la cucina. Sembra che nessuno sia entrato in questa cucina molto tempo. Tradotto anche bene, sembrerebbe. Lo scarico non è attaccato, infatti c'è un secchio sotto. Non c'è neanche l'attacco nel muro. Cioè sono tutti comunque dei particolari che io gradisco molto. La ricetta delle ricette. C'è un note. Ok, no, non me lo traduce quindi probabilmente non è importante. Tanti oggetti li possiamo anche esaminare. Ma è uno degli error che mi ha più interrogato, che mi ha più spaventato è stato Scratched anni e anni fa uscito. Non so se lo avete giocato. Vedete questo libro qui, Insomnis, non so cosa serve ma è l'unico che mi lascia tenere. Quindi non mi dice rimettilo via. Oh, mistero. Adesso quello che volevo fare, adesso usciamo qua tecnicamente. Vedete c'è il telefono, possiamo salvare la partita. C'era un'altra stanza di qua. Qua dovrebbe avere un altro telefono. Infatti vedete che anche lì c'è. E da quello che scopriamo non c'è l'energia elettrica. Queste sono proprio vecchissime. Penso inizio secolo del novecento ovviamente. Continua a ragionare come se fossimo ancora nel ventesimo. E niente, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo un attimino. Qua c'è il testamento. Abbiamo visto. Qua c'è qualcos'altro. C'è anche un fantasma appitturato in modo molto inquietante sul muro. Qua abbiamo il testo. Una fattura. Casteret romano. Studi preliminari 5%. Mostra di schizzi piani in scala. Bozza 20%. Per la relazione di scrittura. Consulenza. Eh, sì, ma? Basta. Vabbè. Sembra una fattura di un qualche tipo. Avevo un'altra cartolina. Sempre nostra. È l'anniversario della morte della nonna. Spero che li portate dei fiori. Ero nel 96. E qua c'è la nonna. Presumibilmente. Ok. Fammi un po' vedere una cosa. Intanto vediamo. Qua c'è anche questa. Anche un'altra lettera ancora. Ciao, nonna. Mi sono sistemato a scuola. Nella scuola. Il posto è un po' freddo. Non conosco ancora la gente. Credo che mi dia questa sensazione. Domani iniziano le reazioni. Sono un po' nervoso. Sono stanzionato con due ragazzi. Non li conosco ancora. Ma sembrano divertenti. Ti scriverò la prossima settimana. Ti farò sapere come va. Non ci lasciano usare il telefono. Con affetto. Ok. Posso prenderla. Questa va nella mia collezione privata. No. Volevo vedere un'altra cartolina che gli avevo mandato al nonno di che anno era. Così almeno iniziamo un pochino a ricostruire la vicenda. Ma non mi ricordo dove era la cartolina. Quindi mi sa che andremo avanti a esplorare. Oh. Un giocattolo. Questo posso prenderlo. Va nei collezionabili. Non l'avevo visto prima. Vediamo un po' la cartolina. Non l'avevo presa prima. Nel 92. guarda la di Joe. 92. Nel 96, quattro anni dopo, gli avevamo scritto questa cosa. Va bene. Vediamo adesso se c'è qualcosa. Porta è chiusa. La porta è aperta. Dispersive come poche queste case. Allora. Curriculum accademico. Roman. Nome dello studente. Roman Kastevet. Noi siamo Joe. Ok. Sembra una pagella. Non possiamo prenderla. Vediamo se si può prendere qualcosa fastidioso a questa cosa perché puoi prendere solo alcune cose quindi devi passare col mouse a vedere tutto. C'è un baule. E ci sono dei pantaloni. Sembra. Sì. Non sono tradotti benissimo invece le voci dei menu. Insomma prendere l'ascia. Quelle cose lì. Tipo default nelle impostazioni chiamato come difetto. Ovviamente è chiusa. Però va bene. Questa abbiamo già visto. No. Allora. Salire di sopra non è mai una buona cosa nei giochi horror. Ma andiamo. Io ho gradito moltissimo. Mi è piaciuto da morire il gioco che mi ha regalato Mr. Delric penso ormai un paio di anni fa che si chiamava The Suicide of Rachel Foster. Bellissimo. Quello ve lo consiglio. Qua c'è una porta che mi ricorda un altro gioco horror che abbiamo fatto un po' di tempo fa. e anche Bedroom. Questa è una citazione che io gradisco tantissimo a Shining. E qua sembra un bambino perché comunque c'è una videocamera che regista tra l'altro ancora. Sono abbastanza inquietanti questi disegni. Comunque abbiamo un comodino. Dentro non c'è nulla. Un dinosauro. Un letto capovolto. Giocattoli. Uno mio che scrive. Una macchina per scrivere. Un chimico. Una ballerina. Un lucchetto. Queste sono cinque cifre. Non ce la possiamo cavare con poco. Dovrà capire. E qua c'è un orologio che si può mandare avanti o indietro. Interessante. Bisognerà ragionarci. Vediamo intanto se troviamo qualcosa che può darci qualche indizio perché è Devil. Ah ok. Questo sembra essere il professore che è il male. Gli studenti. C'è una videocamera. Ci sono dei disegni. E' molto bello. Un altro giocattolo. E qua finiamo l'esplorazione. Comunque dovremmo studiarci perché comunque vedete che poi è pieno di orari. Di orologi. E si può girare solo. Bisogna metterlo in un orario preciso. Ognuno di questi. Non so in base a cosa. Non so. Non abbiamo ancora credo gli elementi per poterlo decidere. Comunque avevamo aperto questa porta. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. C'è questo tappeto che sembra proprio insanguinato. Ma in realtà c'è un orologio che segna le 10 alle 2. Ok. 10 alle 2. C'è il nonno e la nonna presumibilmente. Un telefono dove salviamo. C'è un giocattolo che recuperiamo. Voglio vedere quanti ne ho raccolti fino adesso. E ne abbiamo recuperati 3. Sì come ho detto il gioco non è lunghissimo. Una chiave. La chiave me l'aveva forse anche detto di che cos'era. Però vabbè. C'è un gramofono un po' alla... Io lo prendo sempre come una citazione ad Alone in the Dark perché c'era. Ma non abbiamo un disco. Però c'è un foglio. Sembra una fattura. Ok. Statement. 4095 kilowatt usati. 610. Ok. Questa è una bolletta seppur alta. Di certo non in linea con i 15.000 che dovevamo prima. Abbiamo una cartolina. Non una lettera per il mio compleanno. Non una lettera per 4 anni. Nessuna telefonata. Mi tenete inchiuso in questo stato paia. Spero che tu marcisca. Ok. Siamo abbastanza ostili col nonno che seguendo quello che dicono le lettere pare averci abbandonato a scuola o dove. Qui è chiuso. E non saprei neanche come entrarci. C'è una persona normale lo sposterebbe però. Non è questo il caso. Vediamo adesso se la chiave servirà a qualcosa. Una statua un po' un po' così. Chiusa. Magari serve di sotto. Non lo so. Cosa dice qua? Sportello. Perché c'è dentro un teschio? Ho sbloccato anche un achievement di luogo segreto. Leggi il testo. Un giorno Amazon 99 saperemo che sarebbe successo che ci sarebbe che ci sarebbe sfuggito di mano. L'ossessione ci ha portato alla follia. Sono stato chiuso qui dentro per 13 giorni. C'è una buona possibilità che non esca vivo da qui. Se mi trovate per favore dite alla famiglia che l'amo. Nick dimenticato. Sembra più una goliardata questa. Che è una cosa seria. Anche se in realtà vabbè uno muore qui dentro non gli rimangono certo quattro ossa e un il teschio. Vabbè però sembra una goliardata della verità. Comunque abbiamo il bagno. No abbiamo un costume lo prendiamo. Ovviamente come i vampiri non ci specchiamo però hanno il colgate russo. Vabbè. Ecco no buono la porta si è chiusa è caduto qualcosa. prendiamo un giocattolo giocattolo George bella la vasca con i piedini proprio vecchissimo. non capisco cosa sia successo però la porta qua è chiusa. Adesso non ricordo la chiave dove poterla usare perché cos'è questo? Sembrano cose chimiche. vediamo qua dentro non credo proviamo a scendere però ok avevano due telecamere una da una parte e una dall'altra ok e magari con i documenti che troviamo in giro dobbiamo ricostruire i giornali però non lo so torno giù e vedo se la chiave serve ad aprire qualcosa delle porte che sono rimaste qui tipo questa sì infatti si è aperta con la chiave non c'è stata l'animazione quindi se uno non è attento non se ne accorge una parte tra scacchi ma è finita qua funziona un minimo la luce e allora non ho fatto un jumpscare ma ho avuto un brivido quando è successa sta cosa qua è rimasto chiuso perché abbiamo una lettera preso il libro verde preso il libro verde dalla libreria e dietro c'è la porta quindi c'è un libro verde qui no qui c'è un foglietto spero che ti ricordi che ti odio nel 97 ok ma io onestamente non mi lascia neanche andare lì quindi non credo che serva andare a prendere un libro c'è una finestra poi diluvia vediamoci sono anche dei libri singoli ma c'è un tavolo ma non non c'è nessun libro che mi mi fa pensare di dover essere preso io clicco ma non non c'è nulla eccolo lì il libro che mancava il libro verde il libro dell'insomnis che tirandolo ha aperto qualcosa la porta e qua dentro abbiamo giurerei di aver visto un bambino piangere correre a htnbe sono 6 non sono 5 quindi non posso neanche un dischetto h2o qui abbiamo una cartolina no no la scuola è finita e iniziano le vacanze l'altro giorno ci hanno lasciato chiamare al telefono ho provato a chiamarti per dirti di mandarmi i soldi del biglietto ma non hai rispetto al telefono presti ha detto che hai parlato con te qualche settimana fa e che stai bene passerò l'estate qui facendo corsi di recupero aspettando il biglietto per favore scrivetemi quando potete cioè in sintesi il nonno ci ha lasciato la casa in eredità ma da quando ci ha parcheggiato a scuola non si è più fatto sentire non ci ha più mandato il biglietto per tornare che è molto strano qua è chiuso ora penso siamo in un punto morto nel senso che bisognerà iniziare comunque a ragionare un pochino perché abbiamo già qualche indizio quali questo foglio qui aspetta un po' vedi che ci sono quattro lettere bisogna seguire la la nella prima e nell'ultima poi la n quindi a n ok Anna Anna è Anna la parola è Anna non so cosa mi serva la parola Anna però abbiamo risolto quel quell'enigma lì saremmo andati avanti per ore se non avessimo guardato bene e avessimo trovato quel libro che poi andava qua perché nel momento in cui voi non lo guardate cioè ok qua vedete che c'è un indizio del libro ma il libro dove cavolo è e soprattutto l'unico libro che potete prendere e trovate nella nella sala da pranzo insomma è un po' un po' particolare comunque Anna è la password di non so cosa cioè il nome di della bambina ma non non saprei che altro fare cioè altre cose non ne ho idea ci sono ci sono c'è solo il lucchetto in alto adesso che abbiamo visto perché la casa l'avremmo anche vista praticamente tutta questa era chiusa prima playground questo è un punto dove si gioca e c'è anche una telecamera qui io poi non voglio uh i giocattoli mi sono trovati così tutti i giocattoli ah sì bisogna scrivere la parola ah cazzarola bisogna camminare nelle cose giuste allora vediamo un po' a n n a allora an eccolo qua a n n a sì giusto e si è acceso tutto e sta iniziando a diventare abbastanza sconvolgente come cosa ricorda Joe le case non uccidono le persone ma ma scusate ma si sono aperte tutte le porte questa porta era chiusa prima e c'è la bambina la come fosse una classe questa lui insegnava chimica insegnava qualcosa qua in casa una chiave vestita da fantasma che alla fine vestita da fantasma come nel quadro che abbiamo visto lì sotto ma io non capisco Anna anche qui ma è una chiave che apre che cosa abbiamo tutto aperto adesso tutte le porte che erano chiuse sono state aperte vediamo se ce n'è sfuggita qualcuna ma ovviamente io adesso non non vi voglio più spoilerare niente perché sarebbe un delitto l'unica che manca l'ultima è questa no era il bagno che si era già chiuso per i frattisori no di sopra abbiamo aperto tutto 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 vediamo di sotto c'è comparsa qualche porta nuova ma sicuramente poi questi giochi hanno sempre un finale abbastanza sconvolgente eh sì questo questo è un grande classico questo è un grandissimo classico di questi giochi il fatto che ci troviamo le sedie così ma il personaggio è uno protagonista è uno con con le palle credo perché non ne sta facendo tante qua è tutto operato quindi il tavolo che come era prima ecco mancava questa sì ok ragazzi me la sto cavando anche discretamente bene qua è tutto coperto sembra un'area della casa un pochino più curata però qua è chiuso ragazzi io ho deciso di fermarmi qui perché non voglio spoglierarvi troppo sarebbe un delitto comunque farvi vedere troppo del gioco perché comunque come vi ho detto dura 3-4 ore 12 euro beh senza dubbio il gioco non è fatto male e si vede è fatto a modo suo ricalca quel cliché di giochi horror che ormai si trovano sempre meno può piacere o meno sicuramente è in chiave moderna forse è stato in chiave vecchia avremmo avuto la visuale a telecamera fissa in terza persona quindi non è male sicuramente a livello grafico è un indie è un indie e non si scappa però non è non è non è assolutamente male questo insomnice fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao